Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Una notizia devastante ha lasciato Silvia Toffanin profondamente addolorata e in lacrime. Ma cosa è accaduto per provocare una tale reazione? Fonti vicine alla conduttrice hanno rivelato che Silvia ha ricevuto la terribile notizia di un grave incidente stradale avvenuto durante la notte. L'incidente ha coinvolto una persona a lei molto cara, con cui aveva condiviso molti anni di amicizia e affetto. Le circostanze dell'incidente, verificatosi su una strada molto trafficata, non sono ancora del tutto chiare, ma sembra che l'auto della vittima sia stata coinvolta in una collisione fatale. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, la persona non è sopravvissuta. La vittima dell'incidente è una cara amica di lunga data di Silvia, con cui aveva costruito un legame profondo e sincero. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme nel cuore della conduttrice, che non ha potuto trattenere le lacrime. La tragica perdita ha rapidamente fatto il giro dei media, suscitando una valanga di reazioni sui social. Amici, colleghi e fan di Silvia hanno espresso il loro cordoglio e il loro supporto, inviando messaggi di affetto e solidarietà.